Allora, oggi è il 6 aprile, salute, 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 e adesso stiamo bevendo dell'ottimo Allianico del Vulture Ok, ok, chi fa la presentazione? Ma, ok, ok Sì, facciamo la presentazione Mr. Yamaguchi Mr. Yamaguchi Quando ci sono un realista sinnersista, si lei è il mio ègunto oggi Ma ho chiesto di giocare un burocco italiano Sì. Sentiamo. Bravo. Italian Tunes. Un grato? Core in grato. Cattari. Sì, sì, core in grato. Sì. Sì. Dei gioco. Sentiamo. Bravo. Ah no, questa è la coda. Sì. 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 Sì.